Degustazioni, concerti di musica live, incontri con esperti e laboratori del gusto. Tutto questo farà parte di Bolle di Malto, la rassegna nazionale dedicata al mondo delle birre artigianali che si tiene a Biella dal 25 al 29 di agosto. E quest'anno la Kermess si inserisce nel programma di The Road to Terra Madre, il ciclo di eventi che anticipa l'appuntamento con Terra Madre, Salone del Gusto. La manifestazione internazionale che si svolge a Torino, Parco d'Ora, dal 22 al 26 settembre. E così nel capoluogo Laniero andrà in scena il meglio di un comparto, quello della birra artigianale e dei micro birrifici, che non ha mai arrestato la propria crescita. Nel 2021 infatti la produzione ha raggiunto i 17,6 milioni di eltolitri, superando così i livelli raggiunti nel 2019, pari a 17,3 milioni di eltolitri. Aumentano anche i consumi, che nel 2021 arrivano a sfiorare quota 20,8 milioni di eltolitri, dato vicino ai consumi del 2019. Numerosi sono gli appuntamenti della sesta edizione di Bolle di Malto, tra cui il convegno dal titolo Gli Stati Generali della Birra Artigianale, che ospita oltre 60 mastri birrai che provengono da tutta Italia. Tre gli appuntamenti in programma firmati in Slow Food, tra cui la presentazione della Guida a Re Birre d'Italia 2023. a Re Birre d'Italia 2023.